Il senso che condivido la stessa situazione, nello stesso momento è una cosa potentissima, ci sfogliamo urlando le nostre paure, le nostre rabbi, la grande anima umana che amo io quando parlo di queste cose qua, siamo tutti, abbiamo tutte le nostre sicurezza, incertezze, dubbi, delusioni, amareste, sofferenze, capisci? Perché siamo persone simili. Altra cosa, quando ci incontriamo ci diciamo sempre come va, tutto bene, perché come fai a dire come stai veramente? Anzi, non lo dici proprio, per cui ecco da lì viene quella canzone, io sto male, il famoso libro niente, era una reazione a questa faccenda qua, si dice sempre che tutte le volte che si incontra, che si sta bene, e invece no, oggi te lo voglio urlare, io sto male.